Il premio La Fonte è un premio che ho ricevuto con grande orgoglio perché mi ha dato la possibilità di rientrare nel Pio X dove c'è stata la mia formazione. È un premio che mi ha messo a contatto con amici, collaboratori a livello nazionale e internazionale e che mi ha dato la possibilità di esprimere quello che è stato fatto in sinergia con tutto il gruppo. Molti di quelli con cui ho lavorato sono allievi del Pio X, ex allievi del Pio X, quindi questo premio che ho ricevuto lo condivido con tutti quelli che hanno fatto questo percorso insieme a me.